Io sono Walter Fattore, amico carissimo, dice lui, di Mario Rossi, abita al piano di sopra e combinerà 20.000 casini tentando di aiutare il povero tassista e la situazione precipiterà fino adesso non ve lo posso dire se no svelo il finale eccetera eccetera però è un personaggio molto divertente, io mi diverto molto a farlo insieme a Gianluca, è un personaggio che io ho amato fin dall'inizio, fin quando lo vidi in altre edizioni. Taxi a due piazze è una farsa pazzesca, è una delle cose più belle che ha scritto Ray Cunei e vi divertirete sicuramente, vi aspetto alla Sala Umberto. Grazie a tutti.